Raccolta di firme per il treno Siena-Roma, la petizione è stata consegnata dal vice presidente del consiglio Scaramelli all'assessore alle infrastrutture Baccelli. Indirizzo fittizio per le donne a rischio di violenza, la proposta prima firmataria Irene Galletti dei 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità dall'Aula. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Un treno ibrido diretto per collegare Siena con Roma. Le oltre 2.000 firme a sostegno di questa richiesta, raccolte dal vice presidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli, sono state consegnate all'assessore alle infrastrutture della regione toscana Stefano Baccelli. Presente alla consegna anche una rappresentanza di sottoscrittori della petizione. La richiesta sarà presentata nella cabina di regia che si terrà con Tranitalia e Rete Ferroviaria Italiana. Sentiamo le interviste proprio a Stefano Scaramelli e Stefano Baccelli. Sì, una grande partecipazione di studenti, universitari, turisti, cittadini di Siena della provincia che chiedono un collegamento diretto con Roma. Siena deve uscire dal proprio isolamento infrastrutturale. Oggi la regione toscana ha una grande opportunità, quella di ricevere dei treni blues, c'è un accordo con Trenitalia. Abbiamo chiesto all'assessore Baccelli di un impegno in questa direzione. Avere, se fossero possibili, quattro coppie di treni, partire da Siena alla mattina, arrivare a Roma in due ore, due ore e un quarto, è una grande opportunità, una fermata che potrebbe interessare chiusi a metà del percorso e magari lungo il tragitto ad Asciano e questo sarebbe un collegamento veloce. Può servire ovviamente un mezzo come quello blues, perché è ibrido, quindi può viaggiare sia su una tratta che oggi ci si viaggia diesel e sia su quella elettrica, senza che un cittadino scenda dal treno e sarebbe una risposta a tutte le questioni che oggi noi affrontiamo in termini di transizione ecologica, energetica e soprattutto non comporta investimenti sulla linea. Questo è un aspetto che noi vogliamo dimostrare alla regione toscana, noi chiedevamo da tempo un grande investimento sull'infrastruttura, sull'elettrificazione, siccome l'intervento dell'elettrificazione va nella direzione di Siena-Firenze, i lavori partiranno a breve, Granaiolo già sta partendo in direzione nord, verso sud, mediante la tecnologia, oggi questo treno ci consentirebbe di avere un collegamento che la città di Siena merita, perché ha 13 mila studenti universitari, ha un bacino di turismo unico nel contesto nazionale, poi ha un collegamento importante che la Toscana del sud deve avere nei confronti della città del capoluogo e nei confronti della capitale di Roma. Credo che Siena debba superare il proprio isolamento e su questo può lavorare, ho visto già una risposta importante dell'assessorato della Toscana, perché in questi giorni viene annunciato questo collegamento con Grosseto che si ripristina e poi stiamo lavorando ovviamente con la Giunta perché si possa fare anche il Siena-Arezzo. Con questi tre collegamenti il sud della Toscana e quindi Siena, Grosseto e Arezzo troverebbero una risposta importante anche al di fuori di grandi investimenti infrastrutturali. Ma raccolgo questa proposta molto favorevolmente, uno perché il numero delle firme e anche il tempo ristretto in cui sono state raccolte dimostrano un consenso vero, ma due soprattutto perché mi pare una risposta, una proposta molto intelligente e mi auguro anche assolutamente fattibile. Ovviamente dobbiamo attendere che mano a mano questi treni blues siano immessi sulle nostre ben 14 linee regionali, ma è una proposta che già a lunedì prossimo, quando avrò una cabina di regia insieme a RFI e a Trenitalia, anticiperò e quindi ci saranno poi quelle valutazioni tecniche necessarie. Ma davvero mi sembrerebbe un bel modo e voglio dire anche un modo sostenibile perché i treni e i bus sono davvero innovativi, ne abbiamo ordinati oltre 40 a Trenitalia perché essendo treni trimodali consentono proprio l'utilizzo su linee ex diesel, su linee elettrificate, ma anche contenuti emissivi bassi perché hanno le batterie quando attraversano delle aree urbane. Quindi valuteremo davvero con serietà e con determinazione questa proposta. I tempi sono difficili quindi da prevedere, quando ci potrà essere una risposta? Ma diciamo il mondo ferroviario non è semplicissimo nelle tempistiche, però davvero sin da lunedì proporrò questa idea e questo progetto e vediamo come vanno le cose. Passiamo ai lavori in aula dell'ultima seduta del Consiglio regionale che è stata aperta con un minuto di silenzio per la scomparsa di Massimo Toschi che è stato assessore e consigliere regionale. Utilizzare un indirizzo fittizio per le donne vittime di violenza, l'aula del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un atto che impegna la Giunta ad attivarsi in questo senso nei confronti del Parlamento affinché venga introdotta quanto prima una normativa a livello nazionale per l'istituzione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza al fine di tutelarne la sicurezza e la salute e garantire loro una residenza anagrafica con i diritti ad essa connessi. Sentiamo l'intervesta ad iniziare della prima firmataria di questo atto che è la consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare le vittime è necessario fare attenzione ogni singolo tassello e ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo che è appunto la residenza fittizia che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori. Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento Nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa a quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio appunto non esistente ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima, dalle donne per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo ma che non sia riconoscibile. Questo lo dobbiamo all'interno di questo percorso che anche la Regione Toscana ha fortemente voluto per cercare di far sì che la difesa delle donne, delle vittime sia sempre più efficace e più effettiva e questo deve avvenire a tutti i livelli istituzionali e soprattutto con la coesione di tutte le forze politiche perché questa è una battaglia di civiltà. In realtà è un atto proposto dalla collega Galletti del Movimento 5 Stelle che noi del Partito Democratico abbiamo ritenuto dover emendare e rafforzare nell'impegnativa ma abbiamo fatto di più perché abbiamo redatto un testo condiviso dove si dà una maggiore forza all'atto ovvero impegnare il Parlamento a legiferare a livello nazionale nell'istituire un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di violenza che magari hanno trovato il coraggio di denunciare e che sono magari in case di fuso piuttosto che in altri luoghi protette. Però sappiamo che è facile ottenere gli indirizzi se andiamo in qualunque anagrafe per cui creare un indirizzo fittizio consente loro di avere una maggiore tutela, una maggiore protezione e di essere più difficilmente rintracciabili. Per cui insomma sono anche soddisfatta perché ha trovato l'unanimità dell'intero Consiglio regionale ed è un altro piccolo passo, un altro piccolo tassello nella rete di protezione appunto per le donne vittime di violenza. Siamo in un periodo in cui siamo particolarmente scossi da fatti brutali e sanguinosi che non si fermano. Però quelli di cui parliamo più spesso sono appunto i femminicidi che è l'estremità assoluta di quello che accade. Ci sono tante donne che subiscono quotidianamente violenza a tutti i livelli e in più occasioni e quindi dar tutela anche a loro prima di arrivare ad una degenerazione del problema credo sia di assoluta importanza. Questa è un'esperienza che in alcune realtà della Toscana già esiste, ho avuto modo di affrontare anche in maniera molto silenziosa, diciamo dietro un'apparente normalità, alcune situazioni simili anche nel territorio toscano. Sono delle esperienze diffuse che già esistono. È evidente che le donne che subiscono la violenza devono avere tutta una serie di garanzie e di tutele nel momento in cui vanno a denunciare una violenza subita. Anche una presunta violenza che potrebbe verificarsi e come tale hanno necessità di una copertura, hanno necessità di un'abitazione che le consente di fare una vita anche in un anonimato ma in sicurezza. E nel contempo ricordo anche le iniziative che avevamo fatto in passato rispetto anche a delle opportunità di lavoro che si devono determinare non soltanto nella cooperazione sociale ma anche nel sistema pubblico. Quindi tutta una serie di misure che devono accompagnare quello che questa settimana ci stiamo dicendo ma che poi necessita di atti e misure concrete. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato l'adozione del piano integrato per il parco regionale della Maremma. Il provvedimento è passato con 18 voti a favore del Partito Democratico e Italia Viva e l'astenzione di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Sentiamo le interviste. Sul piano del parco della Maremma intanto è importante dire, mi fa piacere farlo, che la quarta commissione ha intrapreso un percorso di sedute sul posto, come è successo anche per quanto riguarda il parco della Maremma, di valutazione e votazione degli atti che ritengo molto positivo, perché anche in questo caso qui abbiamo colto quanto tutti i soggetti che in qualche modo partecipano della vita del parco della Maremma, ne determinano le decisioni. Tutti gli enti comunali e provinciali che ovviamente ne fanno parte hanno una comunità di intenti piuttosto marcata che va di pari passo anche con una capacità in termini di bilancio che spesso si è distinta rispetto agli altri parchi di cui di solito siamo chiamati a discutere, penso alle Alpi Apuane e penso ovviamente al parco Migliarino San Rossore. Nel caso del parco della Maremma siamo parecchi passi più avanti e quindi anche il nostro approccio è un approccio positivo. Abbiamo però espresso un voto di astensione perché essendo di fronte a un atto che al momento è esclusivamente adottato ma avrà poi la fase delle osservazioni e poi quella dell'approvazione definitiva, ci è sembrato più corretto attendere questo, almeno l'ulteriore passaggio delle osservazioni per capire bene se quelle che erano le nostre valutazioni sono effettivamente corrette o dovessero essere ulteriormente modificate per strada. Sì, oggi in aula abbiamo votato all'adozione per il piano regionale per l'enteparco della Maremma, un atto importante che è stato licenziato dalla quarta commissione ed è stato appunto portato in aula. Tra l'altro la quarta commissione, grazie al lavoro del suo presidente, la consigliera Lucia De Robertis è anche andata personalmente al parco della Maremma, diciamo ha preso contatti con quelli che sono il presidente, il consiglio direttivo ma anche le istituzioni e comuni che insistono. Il piano regionale di questo enteparco è un lavoro che ha richiesto diversi anni, è cominciato a giugno del 2019 e si è concluso praticamente ora anche se ora si aprono i 60 giorni per quelle che sono le osservazioni che poi la commissione dovrà in qualche modo verificare e diciamo che ha una sezione che è una sezione di pianificazione, è una sezione che è una sezione programmatrice. Nella pianificazione l'enteparco insiste su una vastità territoriale piuttosto importante, sono quasi 9.000 ettari di terreno, di territorio e insiste su tre comuni, cioè Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Quindi ovviamente sono tante le istituzioni, le persone che sono interessate a questo piano. Ovviamente quello che si propone il piano intanto è di tutelare l'ambiente naturale che c'è, tant'è vero che ci sono delle aree destinate proprio a rimanere così allo stato naturale e altre invece che ci sono imprese all'interno di queste, vengono fatte anche nella programmazione, si pensa anche di sviluppare quello che è questa cosa naturalmente sempre in maniera sostenibile, in maniera che l'attività umana e la natura in qualche modo si debbano sintonizzare senza che l'una prevalga sull'altra. Tra l'altro l'ente parco è anche un'associazione che ha un bilancio positivo, ha un 25% di entrate che arrivano dalle sue attività, vi si fa trekking, si persa anche di fare, c'è una limitazione nell'entrata delle macchine sempre per la tutela dell'ambiente ovviamente, ma c'è anche l'idea di fare un percorso in bicicletta aiutando quello che è il turismo lento. Ovviamente il territorio dell'Alberese è un territorio conosciuto per essere una diciamo di quei gioielli naturalistici proprio della regione toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie per la visione!